Per quanto riguarda la chiusura delle scuole, quindi come il maggior veicolo eventuale di contagio, come vede appunto questo allineamento con quella che è stata la sua idea fin dall'inizio? Trovarsi un passo avanti al problema è sempre un grande vantaggio, in seguirlo si rischia di rimanere sempre un passo indietro. In quel momento, quando non avevamo ancora neanche un contagiato, ma vedevamo la crescita di questo fenomeno, partire subito con misure contenitive è diventata l'unica strategia per frenare l'avanzata del virus. L'abbiamo fatto in tutti i passaggi, comprendendo la validità di un'estensione dei tamponi prima dell'Istituto Superiore di Sanità, essendo già attivi oggi con gli screening sierologici, facendo in modo che il sistema sanitario non facesse mai mancare un posto letto a un marchigiano. Vi assicuro che nei momenti di massimo carico, 1.250 posto letto dedicati al Covid, 170 posto letto in reanimazione, non aver mandato bene anche un marchigiano è un fatto di grande qualità della risposta. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento. La struttura qui di Cisanova vuole essere un passo avanti da problemi che potremmo trovare da qui a qualche mese di enorme gravità e quindi riuscire a stare sempre avanti è il modo migliore per risolvere e affrontare i problemi.